Perché sei qui oggi? Qual è il messaggio che vuoi lanciare? Allora, sono Daniel, sono un ragazzo transgender e penso di essere uno dei pochi ragazzi trans di potenza medicalizzati. Infatti ho intrapreso una terapia ormonale, mi sono anche operato di doppia mastectomia e questo per me è motivo di grandissimo orgoglio, stare a petto nudo nella mia città, lì dove non ho mai potuto espormi principalmente, lì dove tuttora non posso espormi principalmente. E per me è orgoglio, cioè è soltanto orgoglio, è gioia pura soprattutto, anche perché potenza è piccola. Potenza è piccola e potenza nasconde tante cose, nasconde tutta questa bellezza che c'è in realtà. E per me vedere queste poche persone, anche se nel complesso tante, è veramente bello. Sono molto molto felice. E comunque è una rivendicazione del mio corpo, che sicuramente non è come gli altri lo vorrebbero, ma io lo spongo comunque perché è il mio corpo. Signora, perché è qui oggi? Qual è il messaggio che vuole lanciare? Perché io sono per i diritti di tutti quanti, quindi compresa la famiglia delle persone LGBT. Perché secondo lei è importante partecipare a queste iniziative? È importante perché bisogna battersi, non bisogna stangarsi di dialogare con chi è contro di noi, con la Chiesa, con la società e con chi non la pensa come noi. Bisogna dialogare, non stancarsi mai. Non basta andare nelle scuole, non basta fare i pride, non basta, secondo me. Per me l'omofobia si combatte tutti i giorni, anche senza manifestazione. Io, siccome sono una persona normale come tutti gli altri, vado fiera, non mi vergogno se sono maschia o no. L'importante è che dovremmo essere sempre se stessi. Io non faccio parte di questo mondo, però sono molto pro a questa cosa, non sono omofoba e sono d'accordo. Io sono qui perché faccio parte di questa comunità e sono fiera di far parte di questa comunità, voglio rappresentarla e voglio mandare a quel paese le persone che invece sono contro di noi perché loro, secondo me, non meritano neanche di essere definiti esseri umani perché sono tutti uguali, a prescindere dalla sessualità e tutto quanto e io voglio rappresentare questa cosa, voglio fare la testimonianza, diciamo. Dalla provincia di Salerno partecipo già a questa manifestazione, perché? Allora, innanzitutto io sono una lucana adottiva, nel senso che io adoro la Basilicata e tutto ciò che si fa in Basilicata per me è oro colato, questa è una parentesi. Seguo qualsiasi iniziativa che sia di tipo, come dire, di rottura, di emancipazione, di dire no, di dire osserviamo, di dire guardiamo. La mia storia è lunga, io vengo da Torino, ho partecipato quando avevo 17-18 anni in gruppi femministi, ovviamente, quindi mi sono fatta tutte le battaglie possibili e immaginabili e adesso la mia età comunque continua a seguire tutto ciò che fanno le persone, tutto ciò che dice no, tutto ciò che dice ci sono anch'io, ci siamo anche noi, tutto ciò che ha quel tentativo di, come dire, di cambiare, di dare una visione del mondo quale realmente è. Noi siamo figli di questa terra e siamo figli delle stelle, senza sesso, senza età, ma con tanta dignità. Sei qui perché, qual è il messaggio che vuoi lanciare? Per sostenere i diritti umani. Perché Wonder Woman è un'icona della forza, la forza femminile ma anche maschile, è un amazzone, quindi sia uomo che donna. Questa volta è la mia prima volta che ero al Prat, quindi sì, è la prima volta, quindi siamo contenti, non so cosa fare io. Da dove vieni? Siamo cinesi e poi studiamo qua. E all'università come ti trovi? Siamo musicista, quindi studiamo in conservatorio. E lì come ti trovi? Bene, 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 qua a Potenza, città tranquilla, per vivere, è bellissima. Sì. Cosa suoni? Quale strumento suoni? Sono cantante, pure lei. Perché sei qui oggi? Qual è il messaggio che vuoi lanciare? Voglio lanciare un messaggio molto importante, perché bisogna essere in tanti al Pride di Potenza, anche se siamo pochi va bene, bisogna luttare per i nostri diritti, perché l'omofobia è una brutta cosa. Certa gente dice che noi siamo anormali, ma io non vedo niente di anormale. Un buon Pride a tutti! Peace and love! Verrà a tutti, sì!